Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Autore dei sottotitoli e delle nostre abitudini e delle nostre abitudini. Grazie per la visione Grazie per la visione